ciao a tutti androide pit io sono jessica e io sono luca e se vi state domandando perché di lunedì mattina siamo qui a fare un live c'è un buon motivo no? sì certo ovviamente ed è l'unboxing dell'honor 7x che ora vi andiamo a mostrare quindi honor ha rilasciato anche in europa l'honor 7x che troviamo nella scatola azzurra come da tradizione esatto scatola azzurra colore diciamo tradizionale per honor ormai troviamo qui in alto subito lo smartphone come potete vedere da subito abbiamo una doppia fotocamera e lettore di impronte sul retro sì la doppia fotocamera sporge leggermente dalla scocca ed è affiancata dal flash e abbiamo lettore di impronte sul retro perché perché abbiamo un bellissimo schermo sì full view di 5,96 pollici quindi un ampio display alla portata degli utenti e vediamo che appunto i bordi si assottigliano un po come abbiamo visto nel mate 10 lite per lasciare spazio appunto allo schermo e quindi ottimizzare così l'esperienza utente nella scatola troviamo ovviamente anche il caricabatteria il cavo di ricarica che è un micro usb non è un usb tipo c sì il pin per estrarre appunto l'alloggio che permette di inserire due sim card oppure sim card e micro sd che permette di espandere la memoria interna di 64 gigabyte e di portarla fino a 256 gigabyte la ram invece si ferma sui 4 gigabyte quindi non abbiamo una versione più grossa con 6 gigabyte di ram sì che comunque diciamo che è ciò che troviamo anche nei flagship attualmente presente sul mercato assolutamente sì a livello di processore abbiamo un kirin 659 quindi è il nuovo processore di fascia media di huawei sì che troviamo appunto anche questo sempre nel huawei mate 10 lite esattamente sono due dispositivi veramente molto simili e ora ve lo mostreremo perché soprattutto se posizioniamo i due dispositivi frontalmente eccoli eccoli potete vedere come i due smartphone siano praticamente identici ovvero bordi sottili full display appunto full view a distinguerli troviamo il brand huawei nel caso del mate 10 lite e ono nel caso dell'onor 7x e poi il fatto che è il mate 10 lite offre una doppia fotocamera frontale sì infatti sul questo onor 7x troviamo solo una fotocamera da 8 megapixel nella parte frontale non due fotocamere diverse come accade sul mate 10 lite sì però anche dal lato software la configurazione è praticamente la stessa perché troviamo su entrambi i dispositivi android nougat e miui nella versione 5.1 quindi esattamente sicuramente avrà aggiornato ad oreo con la miui 8.0 però insomma vengono rilasciati con questa versione sì per ora comunque siamo così sul retro vediamo anche le fotocamere sul retro sì sì eccole qua sul retro abbiamo le due fotocamere principali sono una fotocamera da 16 megapixel l'altra da 2 megapixel che serve solamente per diciamo effettuare l'effetto bokeh quindi non viene utilizzata per diciamo avere un effetto di teleobiettivo grande angolare anche perché 2 megapixel sono un po pochi sì per il resto come puoi mostrare magari lo smartphone da tutti i lati troviamo i tasti fisici a destra il tasto di accensione il regolatore di volume il tasto di accensione ha lo stesso look del regolatore di volume quindi non ha un design zigrinato mentre invece a sinistra troviamo lo slot per sim e micro sd oppure appunto per il dual sim e mentre la parte inferiore troviamo il jack per le cuffie il port se riusciamo un attimo a metterlo a fuoco ecco sì più o meno jack per le cuffie port micro usb e lo speaker esatto la porta appunto ancora una micro usb huawei su questi dispositivi di fascia media ha deciso ancora di non implementare l'usb di tipo c sì insomma come potete vedere abbiamo un phablet firmato honor che però molto simile a quello di huawei quasi un 6 pollici un 593 se non ricordo male quindi l'esperienza fotografica offerta dei dispositivi sarà sicuramente differente e ora infatti testeremo l'onor 7x per vedere insomma cosa è capace di offrire il prezzo è ancora un'incognita quindi al momento non sappiamo quanto costi sicuramente non sarà un prezzo da top di gamma non è diciamo il nuovo top di gamma dell'azienda no anzi speriamo che il brand continui a mantenere lo stesso prezzo del suo predecessore l'onor 6x è stato presentato quest'anno a gennaio per è stato nascosto sul mercato per 259 euro se non sbaglio quindi un prezzo veramente interessante considerando quella insomma il rapporto qualità prezzo offerto dal dispositivo e considerato comunque la qualità di questo dispositivo speriamo che insomma se il prezzo sarà lo stesso sarà un ottimo affare ecco sì per il resto insomma non c'è molto altro da dire testeremo sicuramente lo smartphone dentro la scatola non c'è nient'altro non c'è non c'è neanche una cover trasparente no nulla nella scatola che noi abbiamo ricevuto in dotazione troviamo solo questi accessori ad accompagnare l'onor 7x per il resto insomma rimanete connessi a androidpeed.it perché presto rilasceremo la recensione finale del dispositivo e vi faremo sapere quanto costa e con tutto ovviamente le nostre impressioni va bene ciao ciao un saluto